Musica Formare i futuri manager del Food & Wine per offrire nuovi sbocchi occupazionali e aiutare le imprese del settore a valorizzare il patrimonio agroalimentare del nostro paese è l'obiettivo dei due master promosso in collaborazione da Lewis Business School e Gambero Rosso Oggi si parte, si lanciano questi corsi ma c'è dietro un pensiero che non è soltanto settoriale è un sistema strategico che il prossimo passo indispensabile per continuare a crescere è l'aspetto formativo La Lewis è il luogo della formazione, è legato alla formazione di impresa c'è una formazione anche teorica importante che viene assicurata da Lewis il Gambero porta il suo bagaglio di formazione professionale, formazione sul campo e quindi confidiamo che questo matrimonio faccia del bene alle nostre imprese e quindi anche al nostro paese Formazione e professionalità dunque sono le carte vincenti Insieme al Gambero Rosso e ai partner di questa iniziativa stiamo lavorando su una progettazione prima strategica delle iniziative formative sia per giovani laureati o giovani comunque che provengono anche da mercati internazionali quindi il master sarà popolato non solo da studenti italiani ma anche da studenti stranieri quindi da un lato i giovani e dall'altro i professionisti perché noi riteniamo che al di là della grande tradizione che rimane un valore straordinario per questo mercato, per questo settore dobbiamo essere in grado di affiancare degli strumenti più moderni per ottenere i benefici sui mercati internazionali Grazie!